E sulle note di Nino Rota e di Fellini, torna con noi Udo Gumpel, grazie di essere con noi Udo, come stai? Benissimo, anzi sono stato a Kamikati in Sicilia, ho fatto un servizio su questo gesto di questo ragazzo Marco Vinci che ha protetto una donna da uno che la importunava e questo tizio è tornato, l'ha colpellato questo ragazzo Allora mi è piaciuto molto questo fatto che un ragazzo della profonda provincia siciliano, che non me ne vogliono gli amici siciliani Dico profonda provincia, che abbia avuto un gesto così di gentilezza, di grande civiltà Io sono andato là proprio per sottolineare questo gesto che viene dalla provincia siciliana da Kamikati E dunque questo mi ha messo, naturalmente è triste vedere questo fatto, però che questo ragazzo per me va ricordato Va ricordato, un gesto di grande solidarietà e civiltà Ci associamo alla tua scelta Allora noi abbiamo una domanda per te Udo, perché questa settimana anzi Allora noi abbiamo una dana